La crescita dei prezzi delle materie prime, delle energie e del gasolio dovute alla guerra in Ucraina mette a dura prova anche i consumatori campani. Lo sciopero degli autotrasportatori sta spingendo i cittadini a fare scorte nei supermercati. Presi d'assalto gli scaffali dei beni di prima necessità, a Napoli psicosi e file, in alcuni market spunta il cartello con il limite massimo di prodotti da comprare per farina, olio di semi, pasta e zucchero. Il pane e la pasta sono aumentate sicuramente. Notavo anche la carne. Nei supermercati soprattutto le verdure, queste cose, la frutta, ci sono dei prezzi abbastanza alti. Io non l'ho fatta questa corsa, però so che molti si sono un po' dati da fare. Beh, la preoccupazione ci sta, senz'altro ci sta. Lunghe file anche ai distributori di benzina, nonostante i costi siano arrivati a cifre da record, esasperati i cittadini. È una cosa assurda di avere 40, di avere 50 e noi che lavoriamo come raider è impossibile fare i pieni. Per risolvere questa situazione o indevine il governo oppure noi facciamo sciopero perché così non possiamo andare avanti, sono più le spese che quello che guadagniamo. Dopo una settimana di guerra, neanche se l'avessero portata a mano con le lattine dalla Russia fino a qua, poi non capisco questa dipendenza energetica del petrolio russo, ma quando mai abbiamo accattato petrolio in Russia? C'è qualcosa sotto che non va, perché i benzinari ne stanno approfittando, ci sta qualcosa sotto che prima o poi si capirà. Penso che dovremmo fermare le macchine fra poco, perché non è possibile fare una giornata di 40-50 euro e mettere 20 euro di benzina.